le camere. Protestano ancora una volta i lavoratori del Consorzio Unico di Bacino Napoli-Caserta. Sono 1.107 persone con contratto a tempo indeterminato che denunciano di non percepire lo stipendio dal 2013. Pensate, fatto salvo qualche esiguo a conto, chiedono un incontro urgente in regione con l'apertura di un tavolo, cui partecipano però anche i rappresentanti del Ministero.